Abbiamo centrato tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati, ribadisce con soddisfazione il responsabile dell'area tecnica del Lecce Antonio Tesoro nel presentare i tre nuovi acquisti che chiudono di fatto il mercato d'inverno in entrata per la società di Piazza Mazzini, lasciando ancora aperto soltanto il capitolo portieri con la trattativa in piedi per Caglioni. Ho preso le prime scelte per cercare di fare un ulteriore salto di qualità a una squadra che comunque si è incanalata nei binari giusti. Tre prime scelte per il team giallorosso ma anche per loro il Lecce è stata una prima scelta, una squadra in cui avevano già militato in passato Giuseppe Abruzzese, soltanto lo scorso anno Francesco De Rose. La devo cercare come ho sempre fatto ma con maggiore voglia e maggiore spinta di fare delle ottime prestazioni in campo perché è una società importante, è una società che vuole fare bene. Anche se sono stato un anno solo però mi sento a casa quindi è una scelta importante e vengo con l'entusiasmo, anzi vengo con un pizzico di voglia in più per non aver centrato l'obiettivo l'anno scorso e sperando che quest'anno ci riusciremo. E' un debutto assoluto invece per l'esterno Dario Barraco che arriva da Latina dopo una lunga contrattazione già avviata da quest'estate. Il segreto è pensare settimana dopo settimana, giorno dopo giorno e la classifica si guarda alla fine perché poi è quella che conta.